Evocazione Xyz, mostrati a noi, numero 39, Utopia! A questo punto lo equipaggio con Spada Utopia, che gli regala così 800 punti di attacco. Vai, Utopia! Attacca Oscurità, Onore Silente, con fendente Spada Leggera della Speranza! Spada Utopia, è la lama più potente che sia mai stata forgiata! Mandandola al cimitero, tutti quei mostri si distruggono all'istante! Ora cosa mi dici, Shark? Ti dico che posso rimediare. Sì, certo! Te lo dimostro subito attivando la trappola Universo del Chaos dei Cento! Tutti i numeri variali che avete distrutto in questo turno, tornano sul mio terreno! E sul vostro terreno vengono evocati altrettanti numeri varia! Sulla nostra parte del terreno... Ecco che arriva quello di Vector, Masquerade, Orrore, Umbral! Seguito da quello di Alito, Fuggile Indomito, Comet, Sestis! E da quello di Ghirag, Mano Gigante Rossa! Perché evocare i mostri sulla nostra parte del terreno? Non ho finito! C'è ancora un mostro variano che manca all'appello! Attivo la carta magia Evocazione dei Cento! Dal momento che ho tre numeri variani sul mio terreno, questa magia mi consente di evocare l'ultimo dei numeri variani! È quello di Mizarra, mio drago galattico occhi da chionici! Dimmi, che cosa vorrà fare con tutti e sette i numeri variani, Astral? Questo non lo so, però quello che so è che siamo nei guai! Ora che i sette variani sono di nuovo riuniti, per voi è finita! Affrontando me, affrontate tutti e sette gli imperatori variani! Insieme possiamo evocare il mostro più potente che abbiamo! Il mostro più potente di cui dispone il mondo variano! Un guardiano talmente forte, che per evocarlo è necessario sovrapporre tutti e sette i numeri variani, e fare le vocazioni Xyz per eccellenza! Sovrappongo! Onore silente! Ragna infinito! Alcidemone serafino! Mano gigante rossa! Occhi da chionici! Comet Zestis! E Masquerade! Con questi sette mostri, costruisco la rete di sovrapposizioni! Ecco che arriva! Chaos Xyz! Speranza Marian! E' un mostro pazzesco! Restiamo in guardia, Yuma! Sì, sta tranquillo! Gli altri imperatori saranno anche caduti, ma non sono stati sconfitti! Continuerò a combattere per ognuno di loro, e so che al mio posto farebbero lo stesso per me! Per la gloria del mondo variano, vi batteremo! E distruggeremo il mondo astrale! E' una promessa! Non è possibile, non posso crederci! Sette contro uno non è leale! Questo non l'avevamo previsto! E invece per vincere, dobbiamo aspettarci l'aspettato! Finalmente i sette imperatori combatteranno come una cosa sola! E' una forza devastante! E' un miracolo che siamo ancora in piedi! Questo potere è illimitato! Assicurerò il futuro del mondo variano, trasformando il mondo astrale in un ricordo del passato!